Quella notte era una notte buia, non c'era la luna, un mare stupendo, quando a un certo punto verso le due e mezza di notte mi sono accorto che in mezzo al mare c'era una luce blu, almeno un po' di ericetese, che mi guardo in grado e vivano i volendo a cercare Quattro, audience, mogli e ragu, un ragu, un luogo, un luogo Umane, un luogo, 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 un luogo Un luogo, un luogo, un luogo, un luogo, un luogo Io non ho ammonto a la Signora, non ho capito, perché sei da noi, un luogo, un luogo ma era una migrazione, ma era una migrazione Oggi è il 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza. Siamo qui a Lampedusa per ricordare le vittime del 3 ottobre perché sono nati invisibili e sono morti invisibili. Non si può veramente comprendere a pieno tutto quello che queste persone hanno vissuto finché uno non le conosce veramente, finché non le vede in faccia. L'isola mi ha scolpito qualcosa nel cuore e io quindi per ricambiare questo grande favore ho deciso di diventare volontario e di dare un mio contributo concreto a questo progetto. Ognuno di voi si porterà a casa un pezzettino e se ognuno di voi quel pezzettino lo passa a qualcun altro, allora sì che il puzzle è da prendere forma. Venire a Lampedusa è una scoperta in se stessi, in quanto ci mettiamo in discussione e ci chiediamo veramente qual è la nostra missione. Grazie. 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 Grazie.